Milano vieta di fumare vicino alle fermate di tram e autobus. A Busto Arsizio sono stati collocati dei posa cenere per evitare che si lasciano in giro mozziconi. Posa cenere ci sono, come vedete, anche vicino a Piazza Garibaldi, in Galleria San Gregorio. Ci sono ragazzi che fumano i ragazzi che aspettano l'autobus. C'è la possibilità di spegnere chiaramente a qualcuno da fastidio, a qualcuno meno. È un po' così dappertutto. C'è gente che passa, c'è gente che fuma in mezzo agli altri, c'è gente che presta più attenzione e si allontana. La maggior parte dice di rispettare tutti quanti, ma poi non sappiamo quanto sia effettivamente vero. Grazie. Grazie a tutti.